Ora vorrei mostrarti un'app per Android che si chiama Durecorder. Durecorder lo sto utilizzando proprio adesso per registrare questa lezione. È un'app gratuita che puoi scaricare da desktop che ti consente di registrare lo schermo del tuo smartphone Android ma anche del tuo tablet se lo disponi. E nonché di fare anche streaming su Facebook, YouTube, Twitch e adesso anche Twitter e altri social. Per alcuni è possibile anche fare dello streaming contemporaneo per cui trasmetti una volta sola dal tuo smartphone e trasmetti in contemporanea tra diversi social per cui puoi trasmettere lo stesso streaming su YouTube, su Facebook e su Twitch e in futuro anche su Twitter. Per cui andiamo nel Google Play, cerchiamo Durecorder. Vedete questo Durecorder registrato del schermo. Io già lo cerò e lo sto utilizzando. Quando andiamo ad aprirlo, adesso vedi la registrazione in corso. Se ho prova ad aprirlo di nuovo, ho una schermata iniziale con anche la possibilità di monetizzare i miei filmati, fra cui anche lo streaming, guadagnando dei centesimi su ogni visualizzazione e facendo visualizzare a inizio filmato, a fine filmato o a metà filmato una pubblicità, ho diverse sezioni, fra cui una sezione di foto, una sezione di live dove posso vedere i live che si stanno trasmettendo in questo momento e in questo momento posso anche fare un tap sul live e sul pulsante live che vedi e inizia una nuova live. Nella configurazione ho anche degli strumenti come la modifica dei video, l'unisci video, il trasferimento via Wi-Fi, l'unisci immagine, modifichi immagini e posso con la rotellina andare a configurare il video, per cui ho una risoluzione video fino a 1080, Full HD, una qualità video fino a 12 Mbps, che è molto elevata, solitamente i filmati registrati nel proprio smartphone sono a 5 Mbps, 8 Mbps, massimo 12 Mbps, è già qualcosa di elevato, per cui ho una qualità di registrazione molto elevata di ciò che sto dipendendo nel mio smartphone, per cui desktop e del mio smartphone, ma posso anche riprendere le app, posso riprendere i videogiochi, eccetera, tutto quello che ho all'interno, diciamo, divisibile all'interno del mio smartphone. Posso decidere anche i frame per secondo, orientalmente video, eccetera. Quello che mi voleva fare è adesso vedere se me lo fa fare una live su... Meno me lo fa fare, ok.